Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming, quest'oggi voglio focalizzarmi sui privilegi che potete offrire ai vostri abbonati su Twitch. La domanda sorge spontanea, perché mai qualcuno dovrebbe abbonarsi al vostro canale su Twitch? Semplice perché abbonandosi ha diritto a determinati privilegi. Ora, quali sono i privilegi che potete offrire ai vostri abbonati? La risposta è molto semplice. Andiamo nelle impostazioni del canale, io passo da qui perché quella era la schermata per lo streamer e tramite le impostazioni vi illustrerò, scusate, su dashboard, tramite queste impostazioni vi illustrerò i privilegi che potete offrire a coloro che decidono di abbonarsi. Prima di tutto, se siete affiliati, se andate su Affiliato, avete la possibilità di attivare questa opzione. Questa opzione permette agli abbonati di saltare le pubblicità. In un altro video vi ho spiegato come mostrare le pubblicità durante la vostra diretta. Le pubblicità possono farvi monetizzare non tantissimo ma comunque abbastanza se diciamo streamate per tanto tempo e quindi mandate in onda tante pubblicità e possono essere saltate per gli abbonati. Quindi voi potete dire abbonati al mio canale e le pubblicità non le vedi. Quindi è già un incentivo per abbonarsi. Poi considerate una cosa che chi ha Amazon Prime e lo associa all'account Twitch non paga per abbonarsi. Voi guadagnate 5 dollari circa per ogni abbonamento mentre colui che ha usato Amazon Prime non paga perché utilizza appunto l'account Amazon. Però abbonandosi non vede le pubblicità. Quindi diciamo voi guadagnate quei 5 dollari e gli promettete che non vedrà le pubblicità. Quindi attivando questa opzione tramite Affiliato potete dire appunto al vostro canale Twitch quando rilevi un abbonato non mostrargli le pubblicità. Un'altra cosa è la modalità rallentata. Vi è mai capitato di imbattervi in una chat Twitch dove non potete scrivere più di un messaggio di seguito e dovete aspettare un certo tempo? Bene, quella è la modalità rallentata. Se attivate questa opzione potete diciamo permettere solo agli abbonati di scrivere normalmente mentre gli altri dovranno attendere. Naturalmente questa si tratta di un'opzione consigliata solo nel caso in cui la vostra chat sia molto attiva. Altrimenti vi penalizzate perché un canale dove la chat non è attiva non può ottenere in futuro la partnership. Quindi attivate questa opzione solo se la chat è popolata. Poi abbiamo quest'altra opzione che rientra nella stessa cosa cioè se diciamo la chat è molto popolata voi potete dire diciamo ai vostri spettatori che possono usare la chat solo se si abbonano. Quindi diciamo voi guadagnate e loro poi possono utilizzare la chat. Questa opzione invece è per l'archiviazione delle trasmissioni. Quando voi fate una trasmissione questa rimane salvata su twitch per un certo periodo di tempo. Però potete salvarla in modo che non viene mai cancellata e quindi riservare le repliche delle vostre vecchie trasmissioni, video e quant'altro solo agli abbonati. Quindi grazie a queste quattro opzioni voi potete offrire comunque dei privilegi agli spettatori. Infine abbiamo le emoticon e gli stemmi fedeltà. Le emoticon sono quelle che possono essere utilizzate nella chat e quindi potete dire al vostro abbonato allora se ti abboni normalmente usi questa emoticon, se ti abboni per più mesi usi quest'altra, se ti abboni per tre mesi usi quest'altra anche. Quindi diciamo potete offrire delle emoticon originali da permettere diciamo ai vostri abbonati l'utilizzo in chat. E poi abbiamo gli stemmi fedeltà che sono appunto degli stemmi delle iconcine che vengono mostrate accanto al nick di colui o colei che scrive nella vostra chat. Quindi grazie a questo nick viene identificato come un abbonato di tre mesi, sei mesi, nove mesi, un anno, un abbonato base e così via dicendo. Quindi se andate nelle impostazioni del canale alla voce affiliato in abbonamenti potete trovare tutti i privilegi che potete offrire ai vostri abbonati. Quindi ricapitolando live senza pubblicità, ignora la modalità rallentata, chat riservata agli abbonati, archivi riservati agli abbonati, emoticon e stemmi fedeltà. Se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.